Fumata bianca in Serie C, il campionato potrà così partire regolarmente. Dopo un lungo tiremolla, lo sciopero indetto dall'Associazione Italiana Calciatori per problemi legati all'oravviso alle liste bloccate a quota 22 elementi, è stato infatti revocato. Lo sciopero che avrebbe dovuto comportare lo slittamento della prima giornata di campionato è stato revocato in seguito ad un accordo maturato tra Asso Calciatori e Lega con la mediazione della FIGC. Dalla prossima settimana le liste quindi passeranno da 22 a 24 elementi più un ulteriore calciatore classe 2001. Rischio sciopero quindi scongiurato resta solo lo stato di agitazione in attesa della ratifica che dovrà avvenire da parte dell'Assemblea dei club di Serie C. Ma comunque questo weekend il campionato finalmente inizierà. Domenica alle 15 l'Arezzo Calcio scenderà in campo a Salò contro la Feralpi di Massimo Pavanel. Sarà una gara insolita senza il pubblico che sicuramente avrebbe seguito la squadra soprattutto in casa dell'ex Amaranto. Ma non sarà l'unica novità di questa stagione 2020-2021. Per la prima volta infatti la Serie C sarà diretta da una quaterna. Arbitro della partita sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coadiuvato da Emanuele De Angelis di Roma 2, e Mattia Bartolomucci di Ciampino. Quarto uomo invece sarà Eugenio Scarpa di Collegno. Dopo il match di Salò, l'Arezzo lunedì tornerà in campo per il derby più sentito della stagione, quello contro il Perugia. Grazie. Grazie.